Ah no, è 1385-16, revocazione storica, religiosa, gennaio-sagra. Eh sì, ci torniamo e vediamo. Petia, una terra a campi, agenzia del territorio Burgi di Saronno, rubidici tur ad San Flantonio, trattato a un logido notarile del 1385, che è una delle prime cose in cui si vede una segnalazione scritta di Saronno. Andiamo ora, è finita la storia. Andiamo a vedere lì dove c'è una salamelle e via dicendo. Grazie a tutti. 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 cos'è che dice? cos'è che dice? cos'è che dice? c'era già un milione del tempo si, si è vero! eccola è vero buone buone oh ma il carlo Borromeo camminava e le spottotti gatti eccogli ciò ha venduto l'asino non ha pagato l'affitto bravo ma che fa la pulina? è già un po' e qui ce le fa andata la pulina Scusa, sono un po' discreti. Scusa, sono un po' discreti. Formazione! Formazione! Formazione lumbare! Non correre! Vai, vai! Non correre! Nervi per la má Storia . Robin! È unodoxò? È un significato! Tutti dobbiamo morire forse anch'io Inferno! Basta! Grazie a tutti! 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 a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!